Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Docking Stadium Fujifilm HS50 EXR Custodia. La fine PX HS50 EXR di Fujifilm è una bridge con sensore CMOS da 16 megapixel. Questo apparecchio di precisione dispone di uno zoom ottico 42X di qualità Fujifilm. Quest'ultimo ha un'ampia gamma focale, che va da 24 mm a 1000 mm, il che la rende performante sia in grand'angolo, che in teleobiettivo. Con la HS50 EXR registrerai il massimo di dettagli e delle immagini luminose. La sua alta sensibilità fino a 12.800 ISO assicura un'eccellente definizione d'immagine. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon Europa, dalla pubblicità e link all'Amazonity. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.